Ragazzi, sembra strano ma vero, ma siamo su Meagle Mi scuso per la qualità di merda Ma ho trovato l'unica fotocamera del 15-18 Che mi faceste accedere a questo sito di merda Detto questo, continuiamo con il video E andiamo a mostrare a tutto il mondo Cos'è fatto Paolo La canzone di Harry Clasher Che spero stia vedendo questo video Se lo stai vedendo, commenta con... Non lo so Va bene, io direi di iniziare subito Ciao Niente, c'è una vita triste però, eh Tutti mi schifano Ciao Magari, un inquadratura non sui capelli Bellissimo, vero? Fai impazzire Che mi dici? Grazie Mi mettono il copyright Perché? Perché sto registrando il video Non posso Ah, bella quindi, bella Posso metterlo su YouTube? Mi rinunci Vai vai Come ti chiami su YouTube? Lo scrivo subito in chat Ti dico subito Qua non sono venuto per parlare Cos'è del genere Sono venuto per uno scopo Posso dirtelo? Sì Allora, voglio farti sentire la mia nuova canzone Ho fatto una canzone Ok Ok Si chiama Paolo Ti piace questo titolo? Si, si chiama Paolo Non l'hai mai sentita come canzone? Sì Quindi la vuoi sentire? Sì, no Sì Sì o no? Sì Ok, avvento Quindi te la posso fare sentire? Sì Che abbiamo fatta Ma perché fate tutti inquadrature di merda Dico io Bu Ciao Mi suoni la pimpa? La pimpa? E chi cazzo si ricorda? C'ho 12.000 anni Eh, ci credo Io sto ancora sul radio io Qua la data di fronte ce l'ho Cazzo Aspetta Aspetta Fammelo cercare Aspetta Sigla Pimpa Eh, ma cazzo È al pianoforte Eh, vabbè Eh, bro Io Il pianoforte costa un sacco Vabbè Comunque Di nuovo tu Eh, che palle Immessi tessi inquadratura qua sulla faccia Basta con sti capelli Che fai? Boh, cercavo qualcuno Wow, anch'io Vabbè, in realtà sto cercando di fare qualcosa di più Tipo? Tipo Non fare un cazzo nella vita Bellissimo Mi piace Sto registrando un video su YouTube Quindi se non vuoi che mi denunci Schifo subito No No, no, salute Vai, ciao YouTube Ciao mamma Sono su YouTube Interessante Comunque Volevo farti sentire una canzone Si chiama Paolo 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 Prima di dire che questa canzone fa cagare E prendimi per un matto Praticamente sto facendo una specie di troll alla gente Dove metto una canzone di uno YouTuber da 250.000 iscritti E niente Io sto provando ad essere famoso Ma senza risultati credo Un'altra volta sei sordo muto o no? No Parli, parli Ok Allora sono qua per farti sentire una canzone Posso o mi denunci? No Ok Si sente da bufera? Sta piovendo da te che sta succedendo? Eh, piove Ah, qua in Puglia 40 gradi Bene, comunque Prima che tu mi denunci Ti volevo avvisare che sto registrando su YouTube Ti posso mostrare oppure mi denunci? No, ma c'ho Importante che non mi trovi denunce Ti faccio sentire questa canzone che si chiama Paolo È un titolo che mi viene dal profondo del cuore Va bene E allora dedica mi anche tu un Paolo parte 2 la prossima volta Ciao Va bene Ciao Comunque secondo me davvero mi prendo tutti per pazzo Che sto facendo sentire una canzone Non so da dove viene Ciao bro Ciao Non è che qua mi porti alle FBI, no? No, no, no Tranquillo Mi stai riprendendo? Tanto per se No No Io invece si Ciao Non sono su Twitch Non ci preoccupare Non sono su Twitch Non sono su Twitch Non posso Sono su YouTube E a quanto pare non ritornarono né io Nel loro Perché questo video si conclude qui Ragazzi sto cercando da molto tempo Niente ragazzi Se questo video vi è piaciuto Io vi invito sempre a lasciare un like E iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Condividete il video mi raccomando con nonni, zii, parenti, cugini, neonati E mi raccomando fateli ascoltare Paolo Lo trovate qui sotto in descrizione Migliore canzone al mondo